bene cominciamo la risposta alle domande si tutto bentornati a tutti vedo che già ci sono un pochino di domande che sono partite cominciamo subito le risposte allora questa è la prima sì giobard 67 buonasera per garantire il sigilo sacramentale del sacerdote qual è l'iter nell'ipotesi in cui la soluzione è compiata al vescovo la domanda non è del tutto chiara quindi provo a rispondere in base a quello che comprendo la sigilo sacramentale è semplicemente inviolabile quindi punto e basta in maniera piena totale integrale e assoluta per cui se ci fosse un peccato riservato all'autorità superiore parte il fatto che ordinariamente ciò che è assorbibile dal vescovo è delegato nelle diocesi alla una figura che si chiama il penitenziere e quindi basta che il sacerdote se sa che c'è un delitto riservato dica al penitente vatti a confessare dal penitenziere punto e anticamente quando c'erano dei peccati riservati per esempio prima che proprio francesco desse l'indulto a tutti i sacerdoti di assolvere dal delitto di aborto che prima non c'era se veniva confessato un aborto sia da parte dell'autrice diretta un aborto volontario che del complice il marito oppure la prassi era molto semplice che il penitenziere doveva essere come dire avvertito che non poteva ricevere immediatamente l'assoluzione trattandosi di un diritto per cui era necessario rimettere la scomunica e quindi doveva ricevere la facoltà dal vescovo e per cui il più assoluto anonimato e segreto il sacerdote riferisce al vescovo mi è capitato un caso x di aborto eccellenza se mi dà la facoltà di assolverlo e di rimettere la scomunica e se eventualmente ha qualcosa da dire circa la penitenza quindi sempre garantendo di maniera assoluta il sigillo sacramentale il sigillo sacramentale è inviolabile da tutti compreso dal sacerdote stesso d'accordo perché il sacerdote stesso questo si sa non può nemmeno ripensare volontariamente a contenuto di una confessione perché se pensa volontariamente a contenuto di una confessione pecca mortalmente il sacerdote stesso che l'ha sentita d'accordo quindi è un mondo completamente a parte blindato fino all'inverosimile d'accordo quindi non su questo proprio non non si deve avere alcun timore bambini 4 dice secondo l'interpretazione del peccato originale offerta dalla valtorta dio in qualche modo dovuto accettare la rivoluzione sessuale dell'uomo se così fosse allora la sessualità non è dono di dio allora numero uno bisogna evitare come dire discorsi così frettolosamente semplicistici d'accordo un po un po un po sul rigido conseguenziale ecco generalmente le cose sono un pochino più complesse sfumate e allora da quello non è solo maria valtorta assoluto dire questa cosa qui d'accordo ma san giovanni crisostomo trattato del de virginitate non ha nessun dubbio che il matrimonio non era stato come il matrimonio diciamo intesi in senso in senso stretto quindi come unione sessuale lo scopo riproduttivo non era stato pensato né previsto da dio per i primi punto che questo sia una conseguenza il peccato originale è chiaro a diversi autori quindi che poi maria valtorta come dire ne parli ed elabori un pochino questa cosa sì ecco ma non è una cosa sua c'erano fior di autori che ne hanno parlato prima di lei punto secondo dire in senso stretto che la sessualità è un dono di dio proprio boom e bisogna un attimo bisogna un attimo starci a pensare un pochino perché anche leggendo tanti documenti nel corso del tempo insomma di per sé come noi sappiamo la sessualità di questo ne hanno parlato diversi documenti del magistrato adesso non riesco a citare le mani da tutti quanti no mi vengono in mente adesso le considerazioni come dire di benedetto sedicesimo quando schissera deus carita sest sull'amore agapico e l'amore erotico l'amore che è l'amore modellato su quello divino è amore agapico cioè amore che si dona cioè che parte dall'io a un tu in maniera oblativa e disinteressata l'amore che si vive nella sessualità non è amore agapico è amore erotico tant'è vero che si parla anche di erotismo e che significa significa che il principio dell'eros cioè dell'erotismo non è che io mi dono a te ma io prendo da te perché come dire la vita sessuale come dire ha come caratteristica come dire il suo essere intrinsecamente ordinata al piacere sessuale e il piacere sessuale è d'accordo è una cosa egoistica personale tanto è vero che i documenti della chiesa parlano dell'integrazione della sessualità nell'affettività nell'amore come compito degli sposi cioè il sacramento del matrimonio crea un ambiente anzitutto lecito per la vita sessuale ma il fatto che sia lecito non significa che è finito cioè perché la sessualità possa essere vissuta come una cosa bella edificante anche dalla coppia ci deve essere uno sforzo di come dire trasformare elevare una cosa che di per sé mantiene quella struttura intrinsecamente egoistica perché affondata sulla libido in qualche cosa di oblativo questo significa l'integrazione dell'affettività della sessualità sulla dell'affettività di cui parlano tantissimi documenti della della chiesa quindi la sessualità può diventare certamente nell'attuale economia post peccato originale un dono d'accordo ma se uno legge per esempio il libro di tenera amata mi dispiace di fare un'altra rivelazione privata dove parli tutte quante le cose stupende che i beati vivono nella gloria accidentale e gesù stesso ne parla nel vangelo non prendono mogli non prendono mariti cioè sicuramente se c'è una cosa che non ci sarà nella vita eterna è il piacere sessuale questo è sicuro questo qui ma attenzione di gioia e di piacere in dio ce ne sono di infiniti d'accordo non da escludere nemmeno quelli sensibili perché gesù risorto lo sentiremo la prossima ha mangiato non ha bisogno di mangiare ma ha mangiato il pesce se ne ha mangiato e come quindi può mangiare allora questi sicuramente non ci saranno nell'altro mondo perché quando gesù parla con i sadducei la disputa con i sadducei che gli dicevano ma questo c'è avuto sette sette mariti adesso che facciamo dopo risurrezione di chi è la moglie gesù dice i figli di questo mondo prendono moglie e marito ma non i figli dell'altro mondo non coloro che sono ritenuti degni della vita eterna dice il vangelo quindi la frase a slogan è noto insomma poi no quindi la sessualità è una realtà che può diventare una cosa molto bella d'accordo perché c'è un sacramento il matrimonio che la redenta gesù la coinvolta nell'opera della redenzione rimane tuttavia una sfera problematica perché è notorio insomma che anche in una coppia felicemente sposata in chiesa può succedere che la vita sessuale possa diventare come dire un problema non è detto che sia come dire ipso facto idilliaca quindi c'è un'azione oggettiva che è svolta dal sacramento ma ci deve essere anche come dire una integrazione soggettiva da parte degli degli sposi no cioè le modalità sante diciamo così di vivere la sessualità si devono punto primo conoscere e non è il caso adesso di approfondirle in questa sede punto secondo viverle e questo è un compito è un bel compito se la coppia vive questo certamente una realtà che di per sé mantiene proprio strutturalmente cioè quando io per esempio parlo ai fidanzati gli dico approfittate di questo tempo perché nel fidanzamento la sessualità non ci deve essere a nessun livello la sessualità è esplicita ma c'è invece spazio per l'affettività questo è fondamentale proprio per cominciare a mettere le basi di questo lavoro che dovrà essere fatto dopo il matrimonio cioè integrare la sessualità nell'affettività cosa intendo con questo intendo che se io a una persona le faccio una carezza che è un gesto di affetto una carezza sul volto per esempio la carezza sul volto a me che la faccio non è che produce tutto sto granché ma chi la riceve produce una grande cosa così come un bacetto affettuoso a chi lo riceve come dire trasmette affetto a chi lo dà un po' meno più bello riceverlo che darlo diciamo così ecco allora tutto questo prepara come dire l'ambiente perché che la sessualità possa essere vissuta anche dentro il matrimonio con una cosa pienamente bella fermo restando ripeto la liceità fermo restando che gli sposi possono vivere serenamente questa cosa non possono astenersi se non di comune accordo tutto quello che la chiesa ha sempre insegnato anche se fosse della della saga scrittura quindi bisogna essere attenti insomma non parlare di cose così ecco serie importanti e delicate per botti insomma no per slogan allora io è Anto Ernesto Leonardo buonasera lo scapolare la medaglia miracolosa e la corona del santo rosario sono i sacramentali più importanti è vero grazie buona serata ma che cosa vogliamo dire probabilmente sì d'accordo questi io non ho tutta quanta questa come dire autorità né autorevolezza insomma perché poi in fin dei conti lo sa nostro signore certamente la medaglia miracolosa la corona del santo rosario il benedetto ovviamente lo scapolare del carmine il benedetto c'è veramente anche la medaglia di san benedetto insomma che non è che c'è molto da invidiare quindi i sacramentali sono tutti quanti oggetti che portati con fede producono ci proteggono dal male e ci fanno arrivare nel modo proprio appunto di sacramentare le grazie da parte del cielo evidentemente fermo restando la vita di grazia che la persona deve 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 fare no perché poi le grazie arrivano tanto di più e tanto meglio quanto maggiormente chiaramente la persona è disposta poi diciamo integralmente ecco ad accoglierle e a riceverle marina.neri.50 scrive buonasera donardo quali sono i motivi per annullare un matrimonio religioso allora per annullare un matrimonio religioso i motivi sono nessuno perché i matrimoni religiosi non si annullano d'accordo urca non si annullano su questo bisogna essere molto precisi e rigorosi nel linguaggio perché il matrimonio non si annulla ma si dichiara nulla chi non lo sapesse insomma io ho fatto anche gli studi giuridici quando gli studiano i contratti un contratto può essere nullo annullabile risolubile o anche rescindibile allora il contratto rescindibile risolubile sarebbe come dire applicato al matrimonio il divorzio d'accordo quindi una cosa che era valida a un certo punto si interrompe d'accordo perché sono sopravvenuti dei problemi nell'adempimento una cosa annullabile attenzione era una cosa che era viziata ma per un certo tempo ha prodotto effetti a un certo punto ci si accorge che era viziata e la si fa dichiarare la si fa annullare però tutti gli effetti nati dall'atto annullato non decadono viceversa se un atto è nullo non ha prodotto nessun effetto ed eventuali diritti acquisiti in base a un atto nullo decadono ecco per quanto riguarda il matrimonio o sacramento la fattispecie è solo questa cioè ci possono essere dei casi in cui per ragioni inerenti la struttura stessa del sacramento il sacramento non è mai sotto per far capire e adesso si può evidentemente entrare nel merito dei capi di nubità anche se si si possono dire i più famosi se io celebro la messa con la pizza e non col pane azimo la messa non è valida posso essere prete quanto mi pare perché perché la messa sia valida oltre che ci sia un sacerdote o una persona che abbia ricevuto il sacramento dell'ordine sacro validamente e che pronunci le formule prescritte dal rituale di santa romana chiesa non se le inventi quindi la forma corretta ci deve essere anche la materia adeguata e la materia per la santa messa per volontà di nostro signore è il pane azimo e il vino per cui io non posso andare a celebrare la messa con il pane con il pane lievitato o con la pizza non lo posso fare d'accordo se lo facessi la messa è nulla cioè quel pane pane è rimasto ecco allora l'unica cosa che accade nel matrimonio sono fenomeni di questo genere faccio gli esempi diciamo così più di scuola se una se una parte si sposa escludendo di avere figli quindi volendo al momento del matrimonio non avere per nessun motivo figli dal matrimonio il matrimonio è nullo perché il voler avere figli fa parte delle condizioni richieste ad validità e sacramenti perché è un bene essenziale del matrimonio similmente se una persona si sposa e esclude l'indissolubilità cioè si sposa avendo questa chiara volontà io mi sposo in chiesa ma se qualcosa dovesse andare male io lo mando a quel paese e divorzio il matrimonio è nullo tanto è vero che prima che una coppia si sposa in chiesa deve andare dal parroco chi si è sposato in chiesa lo sa a sottoborsi ad un esame che è l'esame dei nubendi dove gli vengono fatte gli sposi delle domande ben precise e io dico sempre se si risponde la verità a tutte quelle domande il matrimonio non può essere nullo d'accordo perché tutte quelle domande attengono proprio una per una a capi fondamentali del matrimonio in assenza di quali il matrimonio è nullo quindi quando quando si viene contratto un matrimonio nullo c'è sempre qualcuno che ha mentito quindi giurando il falso in quella sede e tant'è vero che molte dichiarazioni di nullità siccome questo ricorre quasi sempre questo pochi lo sanno ma bene che lo si sappia vengono pronunciate ma con divieto di contrarre nuove nozze per la parte per colpa della quale il matrimonio era nullo l'esempio che ho fatto prima se io mi sposo io escludo l'indissolubilità invece mia moglie no mia moglie la voleva l'indissolubilità e a un certo punto fa tutto quanto a scatafascio perché il matrimonio è stato nullo per colpa mia perché sono io che ho escluso l'indissolubilità quella poveraccia non c'è nessuna colpa però io facendo questa cosa ho profanato un sacramento oltretutto ho giurato il falso oltretutto e per cui la chiesa ha tutto il diritto di dirmi hai fatto questo bene tu in chiesa ha sposato e te ci sposi più non ti dà la dispensa per le nuove nozze per incontrare un nuovo matrimonio questo è constatabile parlate con i vostri parroci insomma lo potrete tranquillamente constatare oppure leggete qualche sentenza di nullità e dispositivi in cui appunto viene il matrimonio dichiarato nullo ma la parte X non può più sposarsi in chiesa oppure può sposarsi in chiesa solo con il consenso dell'ordinario o cose di questo genere l'ordinario sarebbe il vesco o cose di questo genere proprio perché si vede che l'ha fatta grossa d'accordo che nel senso che essendo stato lui la causa della nullità o lei prima di risposarti in chiesa bisogna che ci pensi un attimo e che dai segni che ti sei pentito e che sei affidabile perché hai già fatto dei guai grossi perché nel matrimonio non fate degli danni soltanto a sé trascina i danni pure quello che ti sei messo vicino poveraccio insomma no buonasera caro padre volevo sapere se una persona ha una situazione ludica e festeggia Halloween con i bambini anche se è per lavoro questa persona commette peccato e mette in pericolo anche i bambini allora questa domanda è una domanda come dire che può essere del tutto inutile non c'è scritto nel carichismo della chiesa cattolica che Halloween sia peccato numero uno gli esorcisti però è quasi all'unanimità io mi sono abbastanza documentato e con profonda dovizia di argomentazioni ammoniscono circa il non dover partecipare in nessun modo a questo tipo di festa punto e basta per cui se uno crede a questo e io ci ho parlato tante volte consiglio vivamente di crederci è evidente che la domanda non ha ragione di esistere chi fa questo qui fa un favore se tutto questo è vero a chi c'è dietro Halloween che certamente non è un personaggio buono dolce e caro la domanda è priva di 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 senso insomma no? perché un'associazione ludica non è obbligata a organizzare tutti i giochi e i festeggiamenti possibili e immaginabili può avere delle buone motivazioni per non farne alcuno non vorrei dobbiamo sempre chiederci quando non si fanno alcune cose c'è un detrimento patrimoniale d'accordo? io prima ho accennato come dire ai miei pregressi anche se brevi trascorsi forensi io nel breve tempo che frequentavo l'ambiente degli avvocati conobbi tra gli avvocati cattolici alcuni che non trattavano le cause di divorzio non le trattavano non trattavano le cause di divorzio ma quello è il mio lavoro sì è il mio lavoro ma siccome questa cosa qui cioè mi mette in una condizione balorda rinuncio e guardate che non trattare le cause di divorzio vuol dire rinunciare non a 5 euro insomma a un sacco di soldi capito? cioè ci vuole anche coraggio ci vuole anche fegato perché una persona non è che appena si affaccia nella professione diventa il principe del foro e ha la fila di gente c'è un giovane avvocato che deve come dire farsi strada farsi conoscere se comincia a far così se comincia a pensare in maniera umana capito? il problema è questi sono problemi di coscienza non si possono scaricare d'accordo? non si può chiedere ah adesso mi rispondo è peccato e quindi non lo faccio più alt questi sono problemi di coscienza d'accordo? d'accordo? non ci sono cioè non in tutte le cose credo che a molto breve forse forse domani stesso scriverò qualcosa su questi argomenti l'ho anche accennato durante l'omelia di questa sera su un nuovo articolo diciamo così che intendo pubblicare no? cioè noi dobbiamo imparare a fare discernimento dentro il nostro cuore cioè chi sa questa situazione non può scaricare deve dire cosa mi dice la coscienza davanti a Dio cosa è giusto fare davanti a Dio dinanzi a questa situazione perché io farei questa festa e cosa mi costerebbe il non farla che ci rimetto d'accordo? e sulla base di tutte quante queste buone motivazioni decide d'accordo? sulla base anche eventualmente della conoscenza acquisita perché la coscienza deve essere formata d'accordo? uno può anche non crederci a queste cose qui però per non crederci deve avere delle buone motivazioni siccome io a suo tempo queste cose le approfondì ho letto ho citato delle fonti insomma grosse quanto una casa cioè che il 31 ottobre sia il capodanno satanico questo lo trovate su tutti quanti i testi di demonologia e su tutti quanti le pubblicazioni fatte da organi scientifici competenti per lo studio delle sete e delle psicosette capito? non è che sono dati così c'è questa strana coincidenza d'accordo? quindi non è che sono argomentazioni campate in aria poi c'è la prassi e l'esperienza di chi è addetto ai lavori ognuno ha la sua specializzazione io non sono un esorcista quindi ho letto però e quando sono stato chiamato in causa dico secondo me queste cose appaiono altamente attendibili poi ho studiato la teologia romatica per quanto riguarda diciamo le discipline ecclesiastiche è tornata tante volte nel diritto canonico nella liturgia non faccio l'esorcista o cose di questo genere però ecco bisogna poi prendere atto pensare mettersi davanti a Dio e decidere Bambini 4 dice è corretto ritenere che il diavolo non avesse la certezza che Gesù di Nazareth fosse Cristo figlio di Dio altrimenti non avrebbe fatto di tutto per farlo uccidere questo non è che è corretto questo è sicuro che sia così perché fin dai tempi dei padri della chiesa questo è campo mio c'è per esempio il grande San Leone Magno parlavano della redenzione come la grande trappola che Dio ha atteso a Satana nel senso che gli ha occultato la discesa del figlio di Dio sulla terra e quindi lui vedeva un grandissimo aggiusto ma non era sicurissimo che fosse lui perché se fosse lui non l'avrebbe fatto uccidere perché sapeva che se avesse fatto questo avrebbe ottenuto la redenzione del mondo chi ha visto la passione di Mel Gibson per esempio questa cosa pacifica diciamo così tra i padri della chiesa latini è espressa dal fatto che appena muore Gesù si vede il diavolo che si rispera all'inferno questo è il motivo per cui il diavolo si rispera perché ha capito che quel momento era la fine quel momento in cui ha capito che chi era colui che era stato ucciso albi bert buonasera padre quando si parla dei fratelli di Gesù nel Vangelo è vero che si tratta di parenti generici ma di chi si trattava allora certamente si si trattava dei figli che sono tutti quattro i figli del fratello di San Giuseppe di due di essi e se uno guarda tutti quanti i Vangeli mi sembra che sono Ioses e Simone si dice esplicitamente in un'altra parte del Vangelo che sono figli di Maria di Cleofe Cleofe era il fratello di San Giuseppe gli ebrei chiamavano fratello Ach è in ebraico non semplicemente come noi fratelli germani ma anche i membri della parentela neanche troppo vicina perché Abramo e Lot che erano zio e nipote come è noto se uno legge i testi dell'antico testamento dove si parlano Abramo dice a Lot tu vieni con me ma non siamo forse fratelli e il termine che usi in ebraico è Achot no Achim non Achot Achim perché perché l'ebreo parla così d'accordo anche io quando saluto i fedeli bisogna vedere il campo cioè che cosa dico fratelli per celebrare degnamente i santi misteri conosciamo i nostri peccati giusto ma non è che sotto l'assemblea stanno mio fratello e mia sorella di sangue no dentro un contesto cultuale noi siamo fratelli in Cristo dentro un contesto della rivoluzione francese d'accordo quindi del del cosmopolitismo sono tutti i fratelli fratelli e sorelle sono tutti quindi bisogna vedere il campo semantico d'accordo il campo semantico è come ho cercato di illustrarlo questo abbiamo già risposto Rossi Biffi scrive buona sera tornata in questo periodo avendo avuto una possibilità di partecipare alla veglia pasquale volevo sapere se posso ricevere la comunione allora Rossi Biffi in questo periodo bisogna obbedire alla disposizione delle autorità ecclesiastiche per cui i vescovi hanno fatto tutti quanti anche mio dei decreti con cui regolano eventuali partecipazioni ai riti della settimana santa che dalla mia parte sono ridotte a quasi zero nel senso che un diacono un lettore e nei casi in cui ci siano delle riprese da fare un addetto diciamo così alla regia uno o due quello che poi si può fare in questi contesti chiaro che se un diacono partecipa evidentemente devo fare la comunione ma va fatto in obbedienza a quello che adesso è l'operità della chiesa dicono di fare punto e basta non c'è altro non c'è altro da da aggiungere quindi non posso rispondere perché non non ho competenza non ho voce in capitolo di ciò diciamo così che non riguarda ciò che il vescovo ha statuito per la mia diocesi quindi non conosco la diocesi di appartenenza deve parlare con il parroco io non sono d'accordo perché non mi piace proprio come come modo di fare e come stile secondo me non è cosa santificante di andare a fare in questo contesto le cose per forza e di nascosto quindi fare le celebrazioni priva io poi per carità ognuno ha la sua coscienza come dicevo prima e avrà fatto discernimento avrà stabilito quello che è giusto io ritengo che in questo momento sia giusto attenersi alle disposizioni date dalle autorità ecclesiastiche e civili punto io questo ho promesso quando sono stato ordinato sacerdote perché ho promesso al mio vescovo e ai suoi successori filiale rispetto obbedienza e a questo intendo avvalermi l'obbedienza è cosa evidentemente che riguarda anche i fedeli nei confronti dei provvedimenti presi dalle autorità ecclesiastiche Don Leonardo quando si è in agonia si può avere una percezione dell'aldilà grazie figlio caro Ianto Ernesto Don Leonardo non è come dire un come dire un un uomo dotato di superpoteri Don Leonardo in agonia non c'è mai stato d'accordo quindi non ho la più pallida idea di cosa accada in agonia ci sono dei casi non ho mai approfondito bene questo questo argomento di premorti o di morte apparente qualcuno dice ecco ma non saprei cosa risponderle perché non di ciò di cui non si può parlare ecco disse un celebre filosofo è sempre meglio tacere Albi Bert chiede buonasera padre quando si intende che Gesù è sempre esistito sin dall'inizio dei tempi questo significa che è stato già durante la creazione attenzione Albi Bert perché Gesù ha iniziato ad esistere da quando è stato concepito nel seno della Vergine Maria Gesù è il verbo di Dio fatto uomo il verbo di Dio Dio da Dio luce da luce di vero da Dio vero è coeterno col padre ma la sua doppia esistenza quindi nell'eternità e nel tempo quella nel tempo ha avuto nel tempo inizio quando è stato concepito per l'opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria quindi nel momento della creazione Gesù non esisteva nel tempo certamente esisteva già nella Santissima Trinità come dire il progetto dell'incarnazione evidentemente poi nell'eternità che Dio è ma questo entriamo in un discorso troppo complicato nell'eternità tutto ciò che accade nel tempo è presente come un punto solo ma questo è argomento che non è consono per noi noi dobbiamo dire che Gesù Cristo è nato sul pianeta Terra il 25 dicembre non è detto che fosse proprio il 25 dicembre dell'anno zero ed è stato concepito nove mesi prima quindi da quel momento il verbo ha una doppia esistenza quella divina coeterna con il padre e quella umana in quanto figlio della Vergine Maria inquisitore S.R. Ecclesi buonasera padre potrebbe spiegare cos'è la teologia pofatica come conciliarla con l'atto di riparazione ora inquisitore S.R. Ecclesi la teologia pofatica è una corrente teologica che afferma che siccome Dio ed è vero è fondamentalmente trascendente e inconoscibile di lui si può dire piuttosto ciò che non è che non ciò che è e meno se ne dice meglio è ecco questo in due parole cosa questo centri con l'atto di riparazione a parte che bisogna vedere cosa intendo con l'atto di riparazione perché l'atto di riparazione cosa quale atto e che ripari cosa ma non posso non vedo non vedo come un atto di riparazione possa entrarci qualcosa con una corrente teologica d'accordo come quella che io ho appena adesso spiegato la teologia si divise fin dall'antica anticamente in corrente apofatica e catafatica quella apofatica dice meno parliamo di Dio e meglio è quella catafatica dice sì è vero che Dio è un mistero però è venuto Gesù ce l'ha rivelato il Padre ce l'ha fatto conoscere quindi fermo restando che Dio rimane Dio e comunque non lo potremo mai perfettamente comprendere possiamo però conoscere più di qualcosa di vero di Lui in forza appunto del del fatto che Dio si è rivelato Dio si è manifestato e il culmine della sua rivelazione e manifestazione è appunto l'incarnazione e l'opera terrena e salvifica di nostro Signore Gesù Cristo però cosa questo centri con l'atto di riparazione non meglio specificato mi dispiace ma non la posso aiutare Don Leonardo non la mia chiesa e il venere di santo si verano i crucifissi lo possiamo fare anche noi perché il venere di santo numero uno la venatura delle chiese è fenomeno molto molto antico la venatura degli stati e crucifissi cominciava la domenica di passione quindi la domenica prima delle palme e durava fino alla viglia pasquale la venatura dei crucifissi è un segno di lutto è un segno di partecipazione al dolore alla sofferenza del Signore proprio un segno che capite Dio è stato tolto dalla terra perché Dio è morto il venere di santo quindi finita la celebrazione del venere di santo adesso la venatura dell'estate è diventata facoltativa quindi a seconda dei luoghi dove può essere fatta o non può essere fatta ma è tutta la prescritta dopo la celebrazione della passione del Signore si vera tutto e si spogliano gli altari assolutamente perché la Chiesa è in lutto Gesù è morto si può fare dovunque si può fare anche in casa io non ho nessuna difficoltà insomma si vede forse qualcosa forse qui non si vede molto bene in casa è un gesto del tutto facoltativo un gesto personale penitenziale se uno vuole si può certamente fare non dà fastidio a nessuno insomma quindi le cose che sono libere si possono liberamente fare senza ecco bene benediciamo questa coppia che fanno 42 anni di matrimonio buonasera padre giustificare è peccato fra Franci questa domanda è un pochino generica per cui non saprei cosa risponderlo giustificare il peccato è domanda troppo genetica Maria Rita Montante scrive buonasera donno volevo chiederle Gesù nella sua natura umana conosceva già la legge e il profetico l'ha studiato Gesù nella sua natura divina conosceva tutto d'accordo nella natura umana allora io non amo fare molto questi discorsi d'accordo perché noi non possiamo comprendere appieno il mistero di una persona come quella di Gesù che ha due nature queste due nature come detto il concilio di Calcedonia sono perfettamente integre d'accordo e fanno ciascuna perfettamente ciò che è proprio di ciascuna di esse senza confusioni e senza che l'una alteri l'altra d'accordo come però queste qui concretamente coesistevano diventa molto molto complicato d'accordo quindi sicuramente Gesù a 12 anni è andato accompagnato da San Giuseppe al Tempio di Gerusalemme a fare l'esame della conoscenza della legge e quasi certamente la sua maestra diciamo così sublime di tante cose è stata la Madonna d'accordo quindi sicuramente si può ritenere che per quanto riguarda la sua natura umana ha avuto un processo di crescita analogo al nostro fermo restando che rimane sempre un certo una certa cautela diciamo così e prudenza come dire ad affermare troppo su questa materia perché rimane comunque un velo che a noi è ignoto ci abbiamo il dato di fede che la natura umana era una vera natura umana come la nostra evidentemente però anche con le dovute differenze perché io non sono nato da mia mamma così come è nato Gesù Bambino non avevo il potere che aveva Gesù Bambino certamente utilizzando la sua natura divina non la sua natura umana di uscire dal grembo della Madonna senza ledere la sua integrità quindi questo lo comprendiamo Chiara Leonilde buonasera Donaldo quando Gesù muore nel Vangelo mi pare di Matteo si dice che risorti rimorti in che senso nel senso che il Vangelo dice che ci sono dei morti che sono risorti e che furono visti camminare in giro è un particolare che ci dà l'evangelista San Matteo su cui poi non c'è non è mancato di non è mancata la fioritura di una certa letteratura evidentemente del tutto libera nel senso che non le si può dare un credito come dire che vada oltre ecco questo è un episodio che quello che nel Vangelo c'è scritto è vero punto d'accordo morti che sono risorti e che sono stati visti vivi l'interpretazione che è stata diciamo data da più di qualche autore che io personalmente condivido è che quelli furono delle primizie al momento della morte di Gesù i morti e i più santi tra i morti sono risorti da subito d'accordo sulla base di questo per esempio si fonda tutta quanta la dottrina non riconosciuta evidentemente ancora dal magistero della chiesa per esempio dell'assunzione al cielo di San Giuseppe cioè del fatto che San Giuseppe stia in cielo non soltanto con l'anima ma anche con il corpo quindi che questi morti siano risorti il Vangelo ce lo dice che siano una primizia cioè un modo evidente con cui Gesù può dare la dimostrazione che la sua morte è stata la fine della morte d'accordo e per darti la dimostrazione risorgono alcune persone è certamente un'interpretazione possibile chi fossero quei morti e che fine abbiano fatto è cosa su cui alcuni autori ci hanno pensato dando le loro ricostruzioni diciamo così lecite io penso che anche questa è una cosa che mi piacerebbe un giorno approfondire magari scrivendoci qualcosa c'era un'antica frase che si osservava nella chiesa che diceva in necessaris unitas in dubbis libertas in omnibus caritas nelle cose necessarie ci deve essere l'unità nelle cose dubbie c'è la libertà ma in tutte ci deve essere la carità nelle cose dubbie io non posso aggredire una persona perché la pensa diversamente da me su una cosa che non è questo non si deve fare mai non si deve fare neanche nella chiesa d'accordo c'è una persona che la pensa diversamente da me che ha un'opinione teologica diversa dalla mia su una cosa che non è di fede io potrò anche dire garbatamente di fede rodello tu pensi questo io penso quest'altro con queste buone motivazioni ma sempre come dire pacatamente d'accordo con con un certo stile con un certo modus ecco vabbè lorenzo godi buonasera sono un giorno un po' confuso potrei dire ugualmente la liturgia delle ore ambrosiana o è più corretto che prego quello romano che visto nella mia diocesi allora lorenzo caro la liturgia delle ore è opera molto come dire raccomandata ma evidentemente libera per chi non abbia assunto l'obbligo di recitare la liturgia delle ore i religiosi religiose i diaconi e i presbiteri e ovviamente anche i vescovi è evidente che si celebra la liturgia delle ore la liturgia ambrosiana è la liturgia che vigge nella diocesi di Milano fuori della diocesi di Milano è chiaro quello che vuole insomma ma non ha molto senso come dire dal momento che con la liturgia delle ore si entra nella preghiera della chiesa è cosa ragionevole e sensata entrare nella preghiera della chiesa pregando come prega la chiesa d'accordo quindi con la liturgia delle ore romana o se uno è proprio dopo che Benedetto XVI ha fatto il modo proprio sul modo pontifico può anche pregare con il preghiera romano del 62 per carità quindi se c'è tanto zero però sempre fare ciò che fa la chiesa che è sempre la cosa migliore da fare buonasera padre se ho in passato preso l'eucaristia con dubbi di peccato mortale posso confessarlo ho un peccato talmente grave che necessita particolari preghiere non si deve mai accostare l'eucaristia per nessun motivo se si abbia il dubbio il sospetto di aver peccato mortalmente questo è previsto diciamo così proprio dalla disciplina della chiesa mai bisogna farlo perché se lo si fa sapete che il morale quando si agisce con coscienza dubbiosa non bisogna mai farlo qualunque azione si fa non è esente da peccato perché? perché se io sospetto di essere in peccato mortale e faccio comunque la comunione vuol dire che io come dire accetto la possibilità di commettere un sacrilegio gravissimo cioè fare una comunione sacrilegio e questo non lo posso fare quindi quel dubbio me lo devo togliere per cui vado al confessionale spiego quello che è successo e dico guardi padre c'è questa cosa e io non mi sarei fatto la comunione perché insomma se non mi fossi venuto a confessare lei è d'accordo? cioè avrei fatto bene o è uno scrupolo? quindi questo però bisogna farlo prima e certamente aver fatto una cosa di questo genere quando ci sarà la possibilità di tornare a usare regolarmente il sacramento della confessione deve essere oggetto di confessione certamente Katisa 75 buonasera Donardo cosa mi dici dell'ora di digiuno prima dell'Eucharistia? è una cosa che ho imparato da bambina da mia madre ma non ho mai sentito nessun serato al laico parlarne sembra molto strano perché nel diritto canonico ci sono delle norme insomma che non c'è niente da dire questa è una legge della chiesa sancita nel codice di diritto canonico non ci si può accostare alla santa comunione se non si è a digiuno da almeno un'ora prima rispetto al momento in cui la comunione si assume punto questa è la legge canonica che ne parli o non ne parli insomma per il diritto canonico quindi non è come dire un un optional fruscist dice padre ronardo mi scusi se farò una domanda non attinente al tema che sta sviscerando ma mi urge chiederle questo la recente pandemia di covid-19 potrebbe essere l'abominio della desolazione allora come si chiama fruscist allora mia opinione personalissima anche questa qui discutibilissima ci sono alcuni passaggi biblici apocalittici l'abominio della desolazione tante altre cose che la cui decodificazione è enormemente difficile d'accordo ecco qui tra l'altro siamo appena entrati insomma dentro questa cosa non sappiamo che sarà quanto durerà quanti morti farà fino a quando dovremo stare dentro casa non sappiamo nulla ancora lo stato attuale per cui sappiamo soltanto una cosa che come ho scritto in un articolo che le consiglio di leggere insomma la settimana scorsa le consiglio insomma se vuole sappiamo che anche questo si svolge sotto evidentemente il controllo divino quindi se questa cosa da Dio è stata diciamo certamente permessa questo sicuramente lo possiamo affermare senza ombra di dubbio altro non lo possiamo sapere con certezza e ha una sua ragione di essere ha un suo senso e come scrive San Paolo per coloro che amano Dio tutto concorre al bene non c'è niente da temere per chi vive in amicizia con Gesù qualunque cosa accada andare molto oltre questo tormentarsi come dire angustiarsi o avventurarsi in interpretazione insomma di vario genere a mio avviso oltre che è un'operazione sempre molto molto aleatoria molto molto discutibile è anche cosa a mio avviso se non inutile dannosa nel senso che può contribuire semplicemente a far star male ad agitarsi a turbarsi tutte quante cose che di per sé non vanno assecondate e se possibile vanno evitate spero di essere stato chiaro buonasera padre è vero che il rosario non è una collana da tenere al collo il rosario certamente non è una collana da tenere al collo nel senso che non bisogna fare come fanno certi personaggi del mondo dello spettacolo insomma che indossano il rosario al collo e che come dire in modi non consomi ma come sapete c'è stato un caso molto molto eclatante di una conduttrice di un telegiornale che ci ha fatto una battaglia perché portava non so se il crocifisso il rosario al collo e qualcuno ha detto no lo devi portare perché è un simbolo religioso perché portare il rosario al collo come amore alla madonna come sacramentale come protezione come gesto di devozione se lo si fa con le dovute e buone intenzioni è gesto lodevolissimo ci sono anche dei rosari da collo quindi fatti a forma di catenina d'accordo quindi non è una collana certamente nel senso che non va diciamo sfoggiato in un certo modo però si può portare con amore con devozione certamente addosso Corridore Buonasera Leonardo città di rosario in latino ha un valore maggiore un valore maggiore la preghiera ufficiale pubblica della chiesa era ed è il latino per cui qualche esorcista dice che al diavolo fa da particolare fastidio la preghiera in latino questo è quello che a me consta se questo fosse vero evidentemente significherebbe che un rosario in latino valore maggiore è una bella cosa ma questo non significa che un rosario in italiano non è il caso di caricare troppo queste cose nel senso di la liturgia la lingua ufficiale della chiesa è ancora il latino qualcuno ed è comunque la lingua sacra era ed è quindi questo fatto indubbiamente un qualche valore lo può possiamo ritenere che lo abbia i calabret come si fa a mettersi sotto la protezione della madonna come ha scritto lei in un telegram quello che ho scritto in un telegram l'ho dimenticato per mettersi sotto la protezione della madonna bisogna invocarla sotto la tua protezione cerchiamo rifugio santa madre di dio soltanto già recitare questa antifona e mettersi sotto la sua protezione e poi pregare il rosario e poi consacrarsi al suo cuore immacolato fare degli atti con cui ne invochiamo l'aiuto e la protezione rolando magri donardo buonasera scusi la minoranza maria valtorta ha scritto l'evangelo come è stato rivelato lei ha già fatto qualche catechesi su questo vado sul mio canale youtube e clicchi maria valtorta e poi vedrà insomma troverà diverse catechesi su questo su questo argomento ultima domanda perché abbiamo 40 secondi albi bert buonasera padre dunque sul societario c'è una messa utilizzando un pane che non si ha anzi una messa non è valida ma quindi vedere come si abbiano saltato messa quel giorno la messa non è valida ma i fedeli che hanno partecipato alla messa non sapendo questa cosa è come se ci avessimo se vi avessero partecipato allora la mia benedizione a tutti perché ecco sta per terminare il video nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén